Cristian ha 48 anni e fa il pasticcere. Qualche anno fa ha subito un grave infortunio. Oggi ha una protesi INAIL alla gamba ed è tornato al suo lavoro. La vita può continuare come prima. Grazie a un progetto di reinserimento lavorativo di INAIL, gli spazi del laboratorio sono stati adattati alle sue nuove esigenze. Scopri di più su INAIL.it. INAIL, la persona al centro del nostro impegno. Campagna promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Presidenza del Consiglio dei Ministri Grazie a tutti.